Non si ferma il piano di asfaltature messo in campo dal settore dei lavori pubblici dell'amministrazione del Mezzabarba. Dopo gli interventi di maggiore portata realizzati su Corso Cairoli e lungo Ticino, nel tratto che va dal ponte coperto a Porta Garibaldi, ora toccherà a zone più esterne della città. I lavori pianificati da Palazzo Saglio, nello specifico, riguarderanno Via Olevano e Corso Manzoni. Via Olevano resterà quindi chiusa al traffico dalle 9 di questa sera alle 6 di giovedì mattina. Una momentanea limitazione al transito delle auto nel tratto compreso tra via Giorgio Andreoli e piazza del San Giuseppe. Il piano di asfaltature toccherà in questo lotto di interventi anche Corso Manzoni. I lavori causeranno la limitazione al traffico nel tratto di strada compreso tra piazza della Minerva e via Luigi Bricchetti. L'amministrazione del Mezzabarba fa sapere che sia in Via Olevano che in Corso Manzoni per consentire lo svolgimento dei lavori di asfaltatura sarà in vigore di vieto di sosta con rimozione forzata.